buonasera comincia oggi il viaggio di rai news nella scienza e nella tecnologia di domani faremo interviste reportage andremo nei laboratori a far parlare gli scienziati e poi come quest'oggi faremo degli speciali in diretta sì perché oggi diciamo è la festa della scienza è la notte europea dei ricercatori i laboratori aprono le loro porte in maniera tale che tutti possano visitarli possano parlare con gli scienziati capire qual è il lavoro della ricerca alle mie spalle vedo già paolo maggioni alle maldive o in polinesia no in realtà lui è a milano credo sia un trucco e poi andrea bettini a frascati ci andremo così come andremo anche a trieste sempre in diretta ma è una festa dicevo e nelle feste importanti ci si fanno gli auguri e allora la nostra mariella azzezza ha chiesto al ministro dell'istruzione e della ricerca marco bussetti di fare gli auguri alla notte europea dei ricercatori sentiamo quali consigli darebbe ad un giovane che vuole intraprendere un corso universitario scientifico e magari diventare ricercatore diciamo anche studentesse perché è importante in questo caso ricordare studenti e studentesse noi abbiamo bisogno di tante donne anche che si impegnino nella scienza perché vediamo che hanno dei risultati fantastici per questo percorso stemme lo stiamo valorizzando da questo punto di vista e sicuramente cercare dentro di sé di leggersi dentro di essere sinceri con se stessi perché è importante capire quali sono le proprie attitudini non le proprie capacità la notte dei ricercatori è una festa cosa augura a chi organizza e a chi partecipa a questo evento con i laboratori aperti con la scienza portata di tutti di stimolare la curiosità la ricerca della verità della conoscenza sono tutti elementi importanti perché si possa così trasmettere quello che è il vero e quello che è il piacere di conoscere la natura la vita come si muovono come le funzioni e tutto quello che ruota intorno alla nostra società ha un perché un suo significato scientifico la curiosità la voglia di conoscere diceva il ministro allora andiamo subito a frascati alle porte di roma poco lontano da qui dalla capitale è uno dei poli scientifici più importanti d'italia pochi lo sanno a frascati c'è il nostro inviato andrea bettini andrea tu dove ti trovi e quali sono i tuoi ospiti buonasera marco buonasera da frascati qui è in pieno svolgimento la notte europea dei ricercatori iniziative in tutto il paese noi ci troviamo in una delle piazze di frascate tantissima gente arriva qui sin dal pomeriggio e tanti altri stanno arrivando noi vi vogliamo fare entrare subito nell'atmosfera della notte europea dei ricercatori proponendovi un esperimento un esperimento particolare che ha una lunga storia ve lo mostriamo insieme a luca giovannelli dell'università di torvergata ripeteremo grazie a daniele il famoso esperimento di galileo galileo della caduta dei gravi dalla torre di pisa quindi galileo voleva studiare se un oggetto pesante rispetto a uno leggero cade prima o dopo quindi dobbiamo osservare se la palla grande arriva a terra prima di quella piccola oppure no magari arrivano insieme 1 2 3 e in effetti arrivano insieme questo perché la caduta di un gravi dipende soltanto dall'accelerazione di gravità e non dalla massa dell'oggetto ovviamente se invece di due palle avressimo avuto ad esempio una piuma il comportamento sarebbe stato diverso sarebbe stato diverso ma questo a causa dell'atmosfera che è presente qui sulla terra se fossimo in grado di togliere l'atmosfera anche una piuma e un martello cadrebbero nello stesso modo e questo è stato provato è stato provato ad esempio sulla luna sì esatto con una missione dell'apollo 15 dove gli astronauti hanno portato appunto un martello e una piuma e hanno fatto questo esperimento sulla luna e dunque noi ovviamente non possiamo andare sulla luna per provarci ma tutti possono fare questo piccolo esperimento nelle proprie case grazie a luca giovanelli grazie a daniele galuzzo che ci ha assistito e noi andiamo invece a parlare di questa iniziativa con uno degli organizzatori responsabile scientifico di frascati scienza giovanni mazzitelli buonasera qual è lo spirito che anima questa iniziativa beh lo spirito è un particolare perché qui sono gli ricercatori stessi che si cimentano a cercare di portare la scienza nelle case di tutti quanti quindi non è solo divulgazione ma anche un po far capire le motivazioni che tutti noi che facciamo ricerca abbiamo dietro questa attività bellissima una grande opportunità per avvicinare il pubblico agli scienziati scienziati che nella zona di frascati e nei comuni limitrofi sono davvero tanti questo è uno dei poli più importanti per la ricerca addirittura a livello europeo sì esattamente qui risiedono tantissimi istituti di ricerca internazionale di livello altissimo sia europeo che italiano lavorano circa 3.000 ricercatori e soprattutto c'è anche una città come frascati che da alcuni anni sta accogliendo quest'idea di fare la divulgazione scientifica proprio come uno dei dei simboli della società stessa grazie grazie a giovanni mazzitelli dunque dicevamo le iniziative sono in corso qui a frascati sono in corso anche in tanti altri istituti della zona all'inaf di monte porzio catone al sedi del cnr di roma poi qui in zona ci sono l'enea c'è l'agenzia spaziale europea c'è l'agenzia spaziale italiana noi oggi nel pomeriggio siamo stati al esa eserin proprio qui di frascati a incontrare luca parmitano che era ospite d'onore lì proprio all'eserin dunque sentiamo che cosa ci ha detto e poi la linea può tornare allo studio quanti ricercatori ci sono dietro le vostre missioni e quanto è importante il loro contributo sapere il numero esatto di ricercatori è praticamente impossibile perché ogni anno a bordo della stazione abbiamo decine se non centinaia di esperimenti che cambiano in continuazione da incremento a incremento dietro ogni esperimento ci possono esserci decine di ricercatori per cui si parla sicuramente di dozzine e dozzine di ricercatori che lavorano gli esperimenti a bordo della stazione spaziale internazionale il loro lavoro è importantissimo perché forse quello più complesso quello di porsi le domande della scienza di porsi un obiettivo da raggiungere e pensare alla domanda quale quale aspetto della scienza analizzare è veramente complesso e questo è il loro lavoro di di creativi della scienza e invece il contributo degli astronauti qual è il nostro contributo è esattamente l'opposto noi siamo a bordo della stazione spaziale internazionale per rispondere a quei siti della dei ricercatori a quei siti della scienza ed è per questo che ci addestriamo ad essere i loro occhi le loro mani la loro voce quando siamo a bordo della stazione di fatto è come se in un certo senso fosse un'estensione dei ricercatori nella prossima missione cosa c'è in programma c'è un programma un piano ricchissimo di scienza tanta tecnologia e sicuramente combinate entrambe il prodotto finale e l'esplorazione quanto costa fare ricerca? Beh tanto l'Italia spende circa l'1,3% del suo PIL e non è poco soprattutto se lo confrontiamo con i decimali di cui si discute proprio in questi giorni a proposito della politica e del DEF però proviamo a comparare il dato italiano 1,3% con quanto invece rispetto al proprio PIL spendono gli altri paesi del mondo chi spende di più è pensate un po' Israele che spende circa il 4,3% al netto delle spese militari secondo posto la Corea del Sud il 4,2 la media europea è intorno al 2% e l'Italia è ahimè al 27esimo posto molto più in basso con appunto il numero che vedete alle mie spalle 1,3 e poi bisogna aggiungere una cosa la spesa varia da regione a regione allora le regioni del nord con l'eccezione del Lazio abbiamo visto frascati spendono più o meno quanto si spende nel resto d'Europa le regioni del meridione invece spendono molto meno la Calabria spende lo 0,55 del PIL e la Sardegna il dato corretto è 0,77 allora in genere si dice che cultura e ricerca non si mangiano non producono reddito son solo spese e in un certo senso è vero però spendere poco che cosa implica implica lentezza implica poca capacità di stare sul mercato di stare nel futuro di programmare il futuro l'Italia è al 19esimo posto per quanto in Europa per quanto riguarda l'innovazione tecnologica è lì sì che si mangia e in quel settore che ci sono i lavori più remunerativi quelli per i giovani quelli che danno reddito che danno possibilità di futuro non soltanto questo possiamo anche vedere quanti sono i dipendenti nel totale dei lavoratori che si occupano della ricerca allora anche qui i dati sono a sfavore del nostro paese in Germania 15 dipendenti ecco i dati 15 dipendenti su 100 lavorano nel settore della ricerca la media europea è 11,8 l'Italia invece al 10 cosa vuol dire che ogni 100 lavoratori in Italia 10 si occupano di ricerca però nei lavoratori che si occupano della ricerca bisogna fare un'ulteriore distinzione perché che so io ci sono i dirigenti ci sono i funzionari ci sono gli impiegati ci devono essere per permettere ai ricercatori di lavorare bene però anche qui il dato se mettiamo in rapporto il dato europeo col dato italiano anche questo è a nostro sfavore in Italia ogni 100 lavoratori del settore della ricerca meno della metà sono ricercatori veri e propri in Europa questa percentuale sale a circa il 64% ecco lo vediamo cosa vuol dire che praticamente in Germania ci sono il doppio dei ricercatori italiani e se le risorse sono come sono relativamente poche queste bisognerebbe concentrarle in alcuni settori permettere di fare nuovi esperimenti in modo da poter sviluppare brevetti tecnologia o scoperte scientifiche e invece se questi soldi se questi finanziamenti vanno a finire per esempio in stipendi per i dirigenti poi vedremo anche le classi di età dei ricercatori italiani anche qui ci sono delle belle novità ecco che tutto il sistema in qualche misura inizia a mostrare segni di crisi a non funzionare velocemente come invece dovrebbe essere però forse troppi numeri e allora io mi fermo qui torniamo a parlare di scienze e ridiamo la parola agli scienziati andando a Milano da Paolo Maggioni lo abbiamo visto prima in un ambiente esotico mi parevano le isole Maldive o qualcosa del genere in realtà è in piazza anche lui a Milano Paolo dove sei? spero in un atollo del Pacifico ma non ci credo e dimmi e parlami di scienza anche te Marco hai svelato il trucco siamo ai giardini pubblici Indromontanelli di Milano questa è solo una riproduzione delle isole Maldive una gioiosa invasione di ricercatori universitari è un'area di tre grandi atenei milanesi, Statale, Bicocca e Politecnico qui per la notte della ricerca sono 730 e raccontano un pezzetto molto importante dell'eccellenza italiana in campo universitario siamo con il professor Paolo Galli del Mare Center dell'Università Bicocca di Milano che fa a livelli di eccellenza ricerca sui mari e sulla biologia marina abbiamo anche queste meduse, partiamo proprio da queste meduse meduse, droni, plastica sono i tre elementi di un brevetto che dal cuore della città di Milano è partito per il mondo sì, abbiamo deciso di studiare le meduse e la plastica perché la plastica e le meduse si uniscono la plastica purtroppo viene spesso confusa come cibo delle meduse e abbiamo cercato di capire come era possibile individuare la plastica in mare quindi abbiamo, ho chiesto dai colleghi che si occupano di medicina di pensare alla plastica come se fossero delle metastasi e di analizzarle per cercare di individuarle mediante l'utilizzo di fotografie fatte con i droni e quindi siete arrivati a questo brevetto? e quindi siamo arrivati a questo brevetto siamo stati i primi al mondo a mettere a punto questa nuova tecnica per individuare la plastica sulla spiaggia un'altra cosa che fate al Mare Center è la ricostruzione della barriera corallina è devastata dall'uomo sostanzialmente dai cambiamenti climatici come fa? allora, quando la temperatura dell'acqua supera i 32 gradi i coralli muoiono c'è una tecnica che si chiama Coral Restoration che abbiamo messo a punto all'Università di Milano Bicocca e non solo e insegniamo a ricercatori di tutto il mondo come ricostruire la barriera corallina una volta che la barriera è stata distrutta, la temperatura dell'acqua è scesa noi non dobbiamo pensare che basta, è così ma dobbiamo in qualche modo cercare di essere positive e di ricostruirla e questo è quello che noi insegniamo ai ricercatori di tutto il mondo un ultimo esempio delle cose che si fanno all'Università Bicocca di Milano e poi sul campo alle Maldive in questa isola che c'è sul DNA del mare voi fate un lavoro quasi da scienziati forensi sì, noi siamo in grado con dei colleghi esperti in questo campo di raccogliere dell'acqua, filtrarla cercare il DNA che era presente nell'acqua e capire quale animale è passato di lì quindi con un unico campione siamo in grado di capire quante centinaia di specie di animali e piante vivono sotto di noi grazie, grazie al professor Paolo Galli uno spaccato delle tante storie, delle tante eccellenze che sono questa sera a Milano nella notte europea della ricerca Meet Me Tonight se non ci sono domande Marco a te grazie, grazie Paolo bellissimi esperimenti fascino, incredibile studiare le meduse per riuscire a capire la quantità di plastica nei nostri mari e sulle nostre spiagge ma qual è lo stato di salute della ricerca italiana? Mariella Zezza lo ha chiesto sempre al ministro sentiamolo ancora una volta lo stato di salute della scienza dell'Italia direi che in questo momento è uno stato virtuoso sotto tanti aspetti perché la ricerca è un elemento fondamentale per la nostra nazione solo che ha bisogno di sviluppare tutte le sue potenzialità ha bisogno di svilupparle anche con altre risorse si sa i fondi sono pochi ma la ricerca e le istruzioni li aspettano? sì, è vero questo rispetto se paragoniamo gli investimenti che hanno altre nazioni in Europa rispetto alla ricerca noi occupiamo delle posizioni di bassa classifica e dobbiamo sicuramente incentivarle però con attenzione e con le risorse collocate dove veramente serve vi volevo far vedere degli altri dati riguardano l'età dei ricercatori italiani dunque chi ha meno di 40 anni e già questo fa sorridere perché non si è giovani a 40 anni ebbene gli under 40 nella ricerca italiana sono meno del 10% tra 40 e 49 anni abbiamo il 37.1% dei ricercatori tra 50 e 59% il 40.9% la gran parte e addirittura gli over 60% cioè gli anziani un po' come me beh, ancora non ci sono ma quasi sono il 12,6% cioè praticamente il doppio giù di lì di chi ha meno di 40 anni eppure sappiamo che quando si è giovani si fa la ricerca migliore si ha più voglia di lavorare si hanno più idee si hanno più capacità di fare nuove scoperte che cosa vogliono dire quei dati? che i giovani non fanno ricerca in Italia? no, non è così la fanno da precari e questo è il vero problema in Italia si viene stabilizzati come si suol dire troppo tardi quando si ha 40 anni 40 o più come abbiamo visto all'inizio della carriera è normale essere precari così come è normale fare dei periodi all'estero quello che non è normale ed è il vero buco nero della ricerca scientifica italiana è che è difficile tornare in Italia anche per chi voglia farlo perché non ci sono occasioni i criteri di selezione del personale di stabilizzazione sono opachi c'è troppa poca meritocrazia questo è il problema dei problemi però ora basta col pessimismo voglio darvi degli altri dati che invece mostrano quanto sono bravi gli scienziati italiani allora parliamo di produttività sempre numeri cerco di andare il più veloce possibile con i pochi soldi che l'Italia offre alla ricerca gli scienziati italiani producono tante nuove ricerche sempre di più la produttività è alta vediamo dei nuovi dati dunque l'Italia produce più pubblicazioni scientifiche di molti altri paesi ce la battiamo con la Svizzera e soprattutto la nostra capacità di crescita è più ampia cresciamo di più almeno in questo settore rispetto al mondo se entro breve dovremmo raggiungere la Francia la Germania non è molto lontana e poi e poi possiamo anche fare un altro tipo di analisi sui numeri è un po' più complicata si basa sul numero di citazioni per pubblicazione detta così è complicatissima però da l'idea dell'importanza delle ricerche vi faccio un esempio che rende semplice la cosa il numero di volte in cui viene citata la teoria della relatività di Einstein ne implica la sua importanza e questo per ogni tipo di pubblicazione ebbene in questo tipo di classifica ha un nome straniero Field Weight Citation Impact inglese qui noi siamo bravissimi praticamente siamo sopra la Germania sul classiamo gli Stati Uniti e poi vedete all'ultimo posto la Corea 1,02 vi ricordate all'inizio la Corea spende tre volte quello che noi spendiamo in ricerca eppure gli scienziati italiani col poco che hanno riescono a produrre il 50% in più della Corea questo è un bel dato quello che non torna sono tutti i lacci, lacciuoli che costringono la ricerca italiana dentro quei parametri che abbiamo visto anziani, over 60, over 50 raramente giovani stabilizzati questo è il problema allora però adesso mi fermo direi di andare a Trieste dove c'è Anna Vitaliani anche a Trieste laboratori aperti scienze in piazza divulgazione scienziati a disposizione dei cittadini Anna Vitaliani a te siamo a Trieste in piazza Unità si è sviluppata soprattutto la note dei ricercatori con tanti eventi all'aperto però anche i caffè storici della città sono stati coinvolti e in particolare è possibile prendere il caffè tipico di Trieste il nero cosiddetto che sarebbe l'espresso si può prendere in compagnia di un ricercatore siamo con Lorenzo Pizzuti avrei voglia di sapere come funziona l'espansione dell'universo perché c'è proprio nel vostro menù già ecco l'espansione dell'universo come facciamo noi a sapere che l'universo si sta espandendo no? non è che ci svegliamo la mattina non scienziati e gridiamo ah l'universo si espande da un giorno all'altro in realtà noi osserviamo la luce delle sorgenti delle stelle delle galassie e quello che vediamo è che più guardiamo lontano più queste sorgenti diventano rosse stanno perdendo energia perdono energia proprio perché l'universo si sta espandendo e la luce che ci arriva tende a diminuire la sua energia e diventare più rossa ecco lei è un ricercatore qui a Trieste si occupa proprio di cosmologia un dottorato all'università di Trieste e le chiedo però lei si occupa anche di divulgazione si vede anche come spiega appunto i concetti scientifici eventi come questo della notte della ricerca perché sono importanti per voi? assolutamente perché sono un'occasione intanto per noi di divertimento perché noi facciamo queste cose anche per il piacere il piacere di comunicare alle persone e far vedere che la scienza non si fa solo nei laboratori ma è un vero e proprio spettacolo e poi anche perché la comunicazione della scienza è veramente importante soprattutto oggi con tutte queste fake news che abbiamo in circolazione avere un approccio scientifico e far capire che i ricercatori sono persone normali diventa davvero essenziale ecco Lorenzo ha parlato bene di fake news perché è uno dei problemi sempre più attuali e allora proprio a Trieste dove è nato il manifesto delle parole non ostili ora si sta ragionando di fare un manifesto delle parole non ostili però declinato al concetto scientifico alla comunicazione scientifica e siamo con Rosy Russo buonasera buonasera lei è presidente dell'associazione parole ostili e appunto in che modo state ragionando ad un manifesto che parli di scienza in maniera corretta guardi noi lavoriamo moltissimo sul concetto di consapevolezza dell'utilizzo dei mezzi digitali ed è ormai consuetudine quotidiana trovare delle fake news le cosiddette fake news il discorso della disinformazione anche nelle notizie scientifiche allora proprio perché il nostro manifesto parte da concetti come virtuale reale sia ciò che si comunica le parole sono un ponte e hanno conseguenze ma soprattutto il principio numero 7 condividere è una responsabilità condivido testi e immagini e solo dopo averli letti valutati e compresi allora ecco quello di cui abbiamo discusso anche questa sera è proprio l'urgenza di raccontare e di insegnare alle persone che per stare sui social prima di condividere una notizia perché c'è sempre questa frenesia anche di condividere sui social le varie informazioni ecco pensiamoci un attimo ragioniamo capiamo qual è la fonte e capiamo quali possono essere le conseguenze positive o negative di questo nostro gesto ecco questo manifesto in qualche modo verrà sviluppato sempre di più anche grazie a ESOF ricordiamolo Trieste città europea della scienza nel 2020 in che modo siete coinvolti in che modo la città potrà comunicare bene la scienza oggi abbiamo lanciato la call per il manifesto appunto declinato di una comunicazione non ostile per la scienza ecco d'ora in poi sarà nostra cura coinvolgere quante più associazioni enti ricercatori per capire insieme quale può essere un'applicazione pratica di questo nostro manifesto di questi nostri concetti così generali proprio nel mondo della scienza assolutamente spero che l'appuntamento sia appunto il prossimo anno insieme per raccontarvi qual è il risultato di questo nostro lavoro da Trieste è tutto in realtà si parlerà si continuerà a parlare di scienza di divulgazione scientifica per altri due giorni fino a domenica perché oltre alla notte della scienza la notte dei ricercatori ci sa c'è anche in contemporanea next quindi divulgazione scientifica tutto campo grazie e allora si può fare scienza addirittura in un caffè l'abbiamo visto si può fare scienza in piazza io mi fermo qui ho parlato fin troppo e do la linea a Frascati ad Andrea Bettini ai suoi ospiti non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata che sarà venerdì prossimo Andrea a te chiudere con i tuoi ospiti e credo con dei saluti molto importanti si di nuovo buonasera da Frascati dunque il motto della notte dei ricercatori qui a Frascati è be a citizen scientist cioè si un cittadino scienziato perché anche i cittadini possono contribuire alle attività degli scienziati Emanuela Medda del registro nazionale gemelli dell'istituto superiore di sanità ora ci spiegherà perché facendoci un esempio assolutamente sì dunque noi siamo entrati nello spirito di Frascati scienza quindi di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca coinvolgendo dei ragazzi delle scuole medie li abbiamo invitati ad essere ricercatori per un giorno insieme a noi quindi li abbiamo fatto due giorni diciamo di spiegazioni del metodo gemellare dell'importanza degli studi gemelli e poi abbiamo realizzato insieme a loro una ricerca cioè gli avete chiesto di raccogliere informazioni sui gemelli presenti nella zona di Frascati ma per quale motivo cosa fate voi con questi dati? Sì esattamente gli abbiamo chiesto di raccogliere informazioni sui gemelli perché questi sono dati che a noi serviranno per le nostre ricerche come registo nazionale gemelli raccogliamo informazioni sui gemelli siano gemelli identici che le gemelli diversi perché attraverso questa raccolta dei dati noi possiamo capire qual è il ruolo dei fattori genetici e ambientali in diverse caratteristiche cioè ci serve per spiegare la variabilità tra individui Quali sono le cause delle malattie diciamo? Quali sono le cause delle malattie abbiamo indagato malattie come la cilachia il dabete e anche altre ma anche non malattie per esempio abbiamo studiato l'altezza abbiamo studiato l'ottimismo abbiamo studiato alti tratti che non sono necessariamente di patologia Grazie Emanuela Medda dunque anche l'ottimismo può essere influenzato dal DNA oppure dal luogo in cui ci si trova e serate di questo tipo sicuramente con tanto entusiasmo nei confronti della scienza non possono che renderci ottimisti siamo in chiusura io vi ricordo l'appuntamento tutte le settimane ed ora in avanti il venerdì alle 20.30 con Futuro24 la rubrica di ReNews dedicata alla scienza e vi lasciamo con le parole di uno dei protagonisti di questa notte della ricerca qui a Frascati cioè Piero Angela che ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Frascati ascoltiamoli insieme e poi la linea può tornare allo studio grazie e buona serata grazie la notte dei ricercatori è un'iniziativa che ogni anno coinvolge centinaia di migliaia di persone in tutta Europa è il fascino della scoperta che accomuna un po' tutti eh sì tutto quello che sappiamo in realtà ce l'ha detto la scienza ci ha spiegato l'universo come è nata la terra come è nato l'uomo la vita cosa abbiamo dentro il corpo e cosa c'è dentro la materia perché siamo diversi insomma è una scoperta continua e quindi noi dobbiamo tutti essere molto grati ai ricercatori che ci aiutano non solo a capire il mondo e noi stessi ma a fornirci attraverso la tecnologia tutti gli strumenti per vivere meglio Quanto è importante oggi far conoscere il loro lavoro? È importante perché purtroppo noi viviamo in un mondo anche in Italia con una società che dipende moltissimo dalla ricerca dall'innovazione pensiamo tutta l'economia che è basata poi su nuove tecnologie e quindi sulla ricerca che c'è dietro e abbiamo una cultura pre scientifica a volte anti scientifica o pseudo scientifica quindi il nostro lavoro il vostro il mio quello di tutti quelli che fanno informazione e degli stessi ricercatori è importantissimo per spiegare che qui bisogna valorizzare le persone riconoscere i meriti ma investire in ricerca questo è il nostro futuro è il nostro futuro